E' una buonissima squadra, non è neanche solo la questione di Giovinco perché i giocatori di qualità del Parma sono numerosi, è una squadra che ha una buona qualità, riesce ad abbinare anche una buona forza con tanti giocatori, è una squadra di sicuro da affrontare con l'atteggiamento giusto perché se no andiamo incontro a problemi. Non c'è una motivazione unica, c'è un insieme di componenti che hanno fatto sì che siamo andati incontro a qualche problema in trasferta, però l'atteggiamento della squadra e il rendimento va valutato sempre nel suo complesso e secondo me dobbiamo essere soddisfatti, molto soddisfatti di quello che questi ragazzi hanno fatto fino adesso. A me dispiace che mancano dei giocatori ma per loro, per il fatto che non possono partecipare alla partita, io ho tanti giocatori a disposizione e sono serenissimo nelle scelte, nelle possibilità che ho di mettere in campo una formazione che va a Parma per giocarsela sicuramente. Ma Crespo è sicuramente un giocatore di grande qualità, penso che possa essere visto dai giovani calciatori come un esempio anche da seguire perché è stato un giocatore che ha fatto molto e penso che sia un esempio da seguire sia negli atteggiamenti che ha sempre avuto in campo e anche fuori. E' chiaro che andiamo incontro a un momento dove abbiamo partite ravvicinate, dove dobbiamo essere squadra e dove dimostreremo di essere squadra perché avremo bisogno di tutti i componenti della Rosa sicuramente.